E anche la quinta giornata del Castellabate Film Festival con le ultime attività per i bambini è vota al termine. Cinque giorni lunghi, intensi, belli ed emozionanti, seguiti dalla consueta serata finale. Venerdì, durante il corso di yoga, i bambini, fra un esercizio e l'altro, hanno concluso cimentandosi nel colorale mandala, termine polisemico che in particolar modo intende indicare un oggetto, anche sacro, di forma rotonda o anche un disco. Durante lo storytelling, i bambini hanno concluso quanto cominciato nella giornata di giovedì, ovvero unione di molteplici disegni realizzate nelle giornate precedenti su dei cartelloni o a fascicoli con lo scopo di creare una storia. Nel pomeriggio, in occasione del corso di magia, sono state ripetute le stesse magie di qualche giorno prima e alla fine è stato consigliato a ciascun bambino un diploma da mago. Il tutto si è concluso con il teatro di burattini e boli di sapone, per poi dare spazio all'ultimo talk show delle 19.